Buongiorno a tutti e bentrovati nel canale Arti Allegra. Come vedete sono di nuovo davanti a pianoforte. Gli studi proseguono. Grazie tantissimo dei complimenti che mi avete fatto. Io riconosco che ancora strimpello e non suono, però credetemi sono veramente entusiasta. Certo, non nego che è veramente difficile, però la voglia di fare penso che supererà tutti gli ostacoli. Sto studiando alcuni spartiti che avevo fatto tantissimi anni fa. Come vi ho detto avevo studiato, anche se per poco tempo, il pianoforte oltre 30 anni fa e all'epoca questi brani li sapevo suonare al pianoforte. Ovviamente ho dimenticato tutto e sto riprendendo gli studi. Sto riprendendo gli studi con gli esercizi giornalieri da fare per sciogliere le dita. Ovviamente la cosa indispensabile è l'esercizio giornaliero. Vi ci sono dei giorni che starei qui per tutto il tempo e quindi mi passano le ore senza che nemmeno me ne accorgo. Ci sono dei giorni invece magari in cui stanco un po' di più. Come mi accorgo? Praticamente mi viene sonno. A quel punto io mi rendo conto che devo smettere. Vi faccio vedere i progressi che ho fatto fino a questo momento. Non sono molti, però proseguono. Vi lascio al video e ci vediamo presto. Mio figlio Federico ha fatto il compleanno. Allora io mi sono trovata agli accordi online e ne ho fatto un po' una mia versione della musichetta Tanti auguri a te che vi faccio ascoltare. Grazie. Dedicato a Federico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.